. Romina Power e Loredana ai ferri corti, scontro tra le due? . Le dichiarazioni di Romina Power hanno scatenato un nuovo gossip, ecco cosa è accaduto. Eccoci ad un nuovo appuntamento che riguarda Albano e Romina, video, una delle coppie più amate dello spettacolo italiano e non solo. Come tutti sanno, i due ex coniugi si sono lasciati più di dieci anni fa, ma ad oggi continuano a far parlare di sé. . Il leone di Cellino San Marco, infatti, insieme a quella che è stata la sua dolce metà storica, ha deciso di iniziare un nuovo tour proprio insieme a lei, per ricordare e rivivere quelle emozioni che da sempre hanno fatto sognare il loro pubblico. . Da poco tornato da Hamburgo, insieme a Romina, il cantante si sta concentrando sul suo nuovo progetto lavorativo. Scopriamo insieme cosa è accaduto a lui soprattutto per quale momento. Il motivo Cancelletto Loredana Leciso e la figlia di Tirone Power si sono scontrate. . La confessione di Romina a Domenica In. A quanto pare, la confessione di Romina a Domenica In, ha portato non pochi problemi a Loredana ed Cancelletto Albano. . Lo cantante, infatti, ha rivelato davanti a tutti che il suo amore per Cancelletto Carrisi non finirà mai e di essere molto affezionata a lui. . Alcune polemiche erano iniziate già qualche tempo fa, quando la Power, passeggiando tra i mercatini di Natale ad Hamburgo, si è fatta scattare una foto con in mano un biscottino a forma di cuore, con scritto di amo. . . Secondo alcune voci, l'attuale compagna del pugliese pare non abbia preso bene tale scatto e per tale ragione sembrerebbe addirittura che abbiano trascorso le vacanze separati. Quale sarà la verità? La risposta di Loredana Leciso. . Nonostante le parole della Power nei confronti del suo ex marito, Albano più volte ha espresso il desiderio di non voler parlare del suo passato e di amare profondamente Loredana. Intanto, le nuove dichiarazioni di Romina, hanno acceso non solo un nuovo gossip ma soprattutto la speranza nei fans, che ormai attendono da anni un ritorno di fiamma tra i due. . A lanciare un nuovo pettegolezzo ci ha pensato Loredana Leciso, che dopo aver ascoltato la sua nemica ha postato una foto sul suo profilo Instagram. . Tale immagine, rappresenta suo marito in compagnia dei propri bambini, con un commento ben preciso, tutti i grandi sono stati bambini, ma pochi se ne ricordano. . I fans della donna, hanno letto in questa frase la voglia di sottolineare che il presente di Carrisi è nella sua attuale famiglia, o meglio quella che ha deciso di costruire dopo la loro separazione. . Per tutte le altre notizie e anticipazioni sul mondo dello spettacolo, video virgola e non solo, cliccate il tasto segui in alto a destra, accanto al nome dellautore. . . . .